E salve a tutti i biocoperiani e bentornati in questo nuovissimo video Ma survive the nights Però prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate il link per il codice sconto del 5% Su tutti i server di DigiPortal che andate a comprare Quindi tanta tanta roba grazie a DigiPortal come sempre Comunque signori L'ultimo video del genere lo feci con WillToLiveOnline Che è interessato a diverse persone E che comunque appunto volevo iniziare questa sottospecie di rubrica se possiamo chiamarla così Di riportare vecchi giochi che magari avevo portato un attimino però sarà visto che non era il caso E quindi li volevo riproporre per vedere un po' se era cambiato qualcosa, migliorato E cioè perché comunque continuo a lavorarci Ma veramente tanto su survive the night Infatti ci ho giocato un pochettino Purtroppo non sono riuscito ad abilitare Ehm... I shit per poter testare ancora più velocemente Quindi avevo già registrato qualcosa Che ero io mentre giocavo Poi magari parlarne Però ho detto no vabbè dai La faccio un po' caciaro come l'ho fatto con Con quello di WillToLiveOnline Quindi diciamo Sul campo no? Ehm... Cosa molto interessante Hanno fatto questa nuova cosa di poter praticamente giocare in single player E poi comunque tutti i salvataggi rimangono Rimangono insomma ripartiti da dove siete disconnessi eccetera Funziona come in multiplayer però in single player Ero anche morto perché avevo fatto una cazzata assurda di accendere tutto nella stazione di polizia Ho notato che comunque hanno migliorato però vabbè Entriamo già in gioco così parliamo un pochettino Ok eccoci qua Allora io appunto l'ultima volta ero partito da qua Non ho una sega di niente Ancora la bussola Ok ho già la bussola E noi siamo qua Ed ero praticamente morto qua dove c'è la stazione di polizia Minchia era andata così indietro Ok Ah In alto a destra c'è pure arrivata che stanotte Ci... Ci verranno a cacciare una bella orda Eh buono insomma Allora Io non dovevo andare C'ho un pelo assurdo sul microfono Dovevo andare qua giù Ora qui quale sarà il nord Cioè non è così nord sud eccetera Dove sto puntando Di qua Vediamo Vabbè teoricamente la puntina è perché dice dove sto puntando Queste cose non lo so Mi sarebbe un po' informare Sti cazzi Comunque Che cosa hanno migliorato Un po' l'intelligenza artificiale Un pochettino di cosette Mi pare anche Il loot era un po' cambiato In meglio O peggio Sono sincero Forse Un pelino in peggio Perché era un po' più facile trovare armi Che non fanno mai schifo O magari era semplicemente Il server in cui giocavo Che era Un po' più boostato Però ecco Non è che si trovino Subito le armi Allora bisogna andare ad Huddersfield Vediamo se fosse di là Ma non sembra No Union point O Roba Cric Ok no Quindi andiamo di qua E niente Quindi Ah P c'era anche Tutta la guida Find a gun Eh lo da spuntato Che non è vero mai Un pochettino di cose Di piccoli tutorial Però Sicuramente Ho trovato Molto più semplice Riuscire ad avviare L'energia di una casa Perché si trovano più Non mi ricordo come si chiamano Vediamo se Ora Non vorrei rompere il cazzo Agli zombie Però Ora ve lo faccio vedere Se mi sentite ancora Questo qua Ho sbagliato Qui Extension cord No C'era Era l'altro Porca puttana Vabbè Devo Devo picchiarli Vieni Ah Ah Madonna Questo era duro Poi hanno sicuramente Migliorato il sistema Di crafting Il fatto di Di ammazzare i zombie Con Eh A mani nude Ah vieni qua Astardo A ti prendere Astardo È sempre un po' Legnosino Eh Insomma Il gioco Sostanzialmente È rimasto Quello Hanno un po' Migliorato la grafica E cose così Allora Apriamo questo Ok Dalle sedie Si prendono Le clean rags Allora Questo è vuoto Qui c'è Non è che Voglio Una bottiglia D'acqua Uh Anche pulita Nice Ecco Questo qua Praticamente Di circuit breaker Se ne trovano Molti di più Tipo Prima ne trovavi Uno O forse Due Adesso Se ne trovano Appunto Sette O più Uh Uh Ho sei colpi Oh è messo malissimo Allora Vediamo Con F Se teniamo Premuto F Già prendono tutte queste Statistiche Si vede l'arma Però c'era Un tasto Proprio per Ok Se lo premo F Un attimo Minchia È messa Veramente Veramente Male Comunque Ok Ho capito Ho sbagliato Tasto Va bene La prima volta Anche che trovo Questo Wow Devo registrare Il video Un po' più spesso Anche gli screw Ma non so Se riesco a far vedere Questa cosa Gli screw Ok Vabbè Dai abbiamo Una pistolina Con 8 colpi È un po' brutta La mira Un po' tanto brutta Mi sarebbe piaciuto Anche trovare Un'accetta Comunque Sì appunto Come dicevo prima È un po' più facile Adesso trovare Questi capacitor E quindi Avviare L'elettricità In un posto Ad esempio Nella stazione Di polizia C'è lo stesso Sistema In più C'è anche Il Il generatore Che ha bisogno Di benzina Che però Comunque L'avevo trovata Abbastanza facilmente Ho trovato Una tannica Di benzina E avevo svuotato Una macchina E Gaga Easy Comunque Vorrei Cioè Mi piacerebbe Tenere questo video Un pochettino Più Più Corto Non voglio Superare Tipo la mezz'ora O comunque Arrivarci Però ci vorrà Un pochettino Ad arrivare là Ah visto è che Comunque L'avevo Già detto Anche L'avevo scritto Nella community Tab Sempre qua Di youtube Che Per chi fosse Interessato Per il podcast Perché Sì Io e il signor Dylan Apriamo Apriamo Io però Voglio mettere Via la pistola Perché non vogliono Fare ulteriore casino Come si mette via Come si mette via Se voglio Come si mette Posso Non voglio fare casino Vabbè Ho fatto Un casino Azzurdo Ok Speriamo Nessun altro Venga Comunque Il podcast Che io E Dylan Facciamo Abbiamo cambiato Un po' La schedule Quindi Invece Di farne Uno Ogni settimana Ho pensato Di farne Tipo Due settimane Cioè Due Martini Martedì Per voi Praticamente No E il martedì Dopo Sì Ho voluto Farlo In questo modo Perché almeno Lui Con gli studi Si può regolare Meglio Poi Speriamo Che quando Si registra Non faccia Tarde Come fa Sempre Così Si può Organizzare Meglio E tutte Le altre Cosine Di organizzazione Un po' Meglio Una Mega Pentolone E Io Lo Voglio Prendere Cannot Consume No Shift Non lo fa Prendere Va bene Qui che c'è Screws Ma non li prendiamo Per scaramanzia E quindi Comunque almeno Posso dedicarmi Un po' Più Qualcos'altro Magari a portare Un po' Più Spesso Questi Tipo Di video Dove porto Giochi Che portavo All'inizio Ad esempio C'è anche Next day Survival Che una volta Ci rigiocai Ma Era pieno Ovviamente Di gente Stra mega Forte Che tra un po' Ti inculava Anche Al Come si chiama Oh no No Che ti inculava Anche al Allo spawn Sostanzialmente Nella Safe zone Porca Merda Ehi amici Sentite Allora Che mi dai Clean rugs Ok Allora io vorrei Aspettate un attimo Stavo cercando il tasto Per mettere via L'arma Ma Non me lo Non me lo trova Però teoricamente Dall'inventario Un equip Oh via Così riprenda Per prenderli a pugni Saremmo dovuti Credo che Ci siamo arrivati Niente Niente Mancava Niente mancava Di survival Poi comunque C'era anche Qualcosina Di interessante Perché io Cioè Ho sempre portato Giochi Un po' Strani Eh Madonna Non riesce ad andare Quindi Non roba Molto popolare Ecco Sempre cercato Di portare A parte Tarkov Qualcosina Che non tutti Comunque Conoscono E Che mi piacerebbe Che comunque Iniziassero a conoscere Ad esempio Do Process Che purtroppo Ho smesso di giocarci Perché era Diventato Un Un patire Trovare Qualche partita Cioè Ci voleva veramente Un sacco Oh no Il ciccione Che è questo Un po' Un po' più duro Una sega Ok Never mind Oddio Mi hanno sentito Anche gli Ma c'è ancora uno Che cos'è questo Un alternatore Ok Può servire Aspetta Aspetta Ammazzo Prima lui Ok Ok Che mi dai Dirti Rax 308 Non c'è nient'altro Come sto messo Tra l'altro Che da I Vediamo sempre Abbiamo 1000 calorie su 1000 Idrazione 80 su 100 48 Siamo a metà Di Di Peso E qui c'è ancora la guida Deve notare la batteria Possiamo fare Una benda Non so se riesco a farne un'altra Sì Buono Che le bende qui praticamente ti danno Instant La vita Ancora Nice Quindi sono Sono una bomba Cioè Non è diciamo come Tarkov Che saranno soltanto Per Togliere Il sanguinamento Allora Questa dovrebbe essere La stazione di polizia Intanto Quelle cose Spanono Man mano Che Ci vado Allora Io spero che questo video Esca di Domenica Quindi praticamente Il giorno dopo Che io lo sto registrando E Ho comprato un VR Che Madonna Spano No Ok Sono ancora troppi Non sono troppi E dov'è che ero morto? Ah da una parte dove ero bloccato E ho comprato un VR Per ora ho comprato L'Oculus Rift È il primo Per testarlo L'ho preso usato A 150 euro Così lo provo Ancora non mi è arrivato Mi è stato spedito sabato E No sabato È stato spedito Venerdì E quindi niente Lo Lo testo E se mi piglia bene Stavo pensando Di prendermi subito Il quest 2 Così da poter Potermi godere meglio Half-Life Alyx Vi interesserebbe Una serie su Half-Life Alyx? Half-Life Alyx Ditemi un po' Perché Sennò Inizio subito A non registrare niente Cos'è sta roba? Un siphon Un sifone Ok Salve! Prof! Oh 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 Era dura eh Allora qua Mi servono Il Clean Rax Queste sono Vuote Questi servono Solo per storare Roba Che a me Inizialmente Se Se me ne frega Qualcosa Questo gioco Mi Mi interessava Tanto Per queste cose Di interazioni No Puoi accendere E spengere Le luci Puoi fare Trappole Con le armi Una Accetta Perfetto Allora vorrei Ok Non me la conta Come Ah A 77 Buono Non me la conta Come Arma Mi Di Va bene Così Ok Quindi posso Iniziare a tagliare Un pochettino Di legna Salve Oh Non ho salito Anche il livello 3 Mi chiedo Più che altro Che cosa Serva A salire Di livello Ma Credo Che Forse Lo Scopriremo Non so Se lo scopriremo Qui O Da un'altra Parte Però Qui Continua A prendere Rags A pulite Allora Comunque Fatemi sapere Sotto nei commenti Se Vi potrebbe Interessare Una serie Su Half-Life Alyx Rigorosamente Magari Con Con Webcam Così Che È tutto Molto Più Fico Perché Se Non ho Risposte Io Inizio subito A giocarlo E Fine Inizio subito A giocarlo Senza Registrare Allora Qui c'è Qualcos'altro No Qui No Ok Allora Adesso Che ho Una Cetta Normale Mi piacerebbe Andare Nella Stazione Di polizia Di polizia Ci sono Di 308 Questo esce Dalla Ok E mi da Niente Però La sedia Mi serve Cos'è Carbone Questo ovviamente Serve per Accendere Fuochi E altre cose Ora La pistola Che ho preso Io È 45 La Lola È Punto 45 Ok Comunque Qualcosina Avevo preso Quindi Not bad Una pala Prendiamola Uuuuh Questo è 308 Che succede? Ah no Punto 45 Anche quella Ed è messa Molto meglio Quindi Direi Un colpo Solo Perfetto Allora Vediamo se Ok Qui mi comprende Questa Mi lì Vedete Ok Tools Me lo conta Come tools Che tasto Era? 6 Ah no Ok Sì 6 Però Mi switcha Tra le altre Ok Qui sotto Che c'era? Niente Ok Facciamo un giretto Nella stazione Di polizia Anzi Voglio farvi vedere Se si può con quella piccina Il taglio Della legna Come funziona Ecco Andate qui nei punti Tac 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 E Si Continua A Tagliare Finchè non smetti di fare Questo ormone Stonk Sponk Sponk Che segantina E poi cade Da che parte Cade di là Vediamo se si spacca La staccionata Per un cazzo Di niente Ok E adesso Funziona Nello stesso modo Solo che Andando Così Però Ci dovrebbe voler Eccola Qua Ok Ok Ci sei quasi Si è arrivato in fondo Perfetto Mi prendi in giro No E si è resettato Ah ok Ah ok E vedete Fa prendere poi Il Il log Ok Adesso lo sapete Spero siate un po' più contenti E Di qua Yes A quanto sta ora 61 Va bene Va bene Abbiamo 66 di vita Quindi Non so se farne leggere Ne scrivere Uso una bendina Più 25 Quindi ok Andiamo Belli a 91 Che ci dovrebbe bastare Per ora E L'accetta grossa No è sempre quella piccolina Me la piglio Fammi vedere quella Allora È al 33 Ok Un po' meno fica Scrap metal Una buzzain Ok Ah Qui possiamo già Farci le cose Per magari Potersi cucinare Qualcosa Ma Non ho L'apri scatole E non so Sinceramente Se posso aprire Questo No Non me lo fa aprire Però posso aprire L'apri scatole Va bene Tanto per ora A me non interessa Mangiare Ho già Mille calorie Su mille Che se lo supero Durante Cioè lo supero Poi se sopravvivo Mi aumentano Le stats Ok adesso Vediamo un po' Ok Ok Fatevi sotto Se avete le palle Sentitela Che casino Porca vacca Porca vacca Opzioni Audio Ok Ok Ora non so voi Come lo sentite Se alto o basso Però Meglio così Ok Praticamente Io Ero andato Giù Che paura Che vaffanculo Ero andato Di sotto Che ci stavano I C'era proprio L'energia Eccetera Che poi apriva Queste stanze C'è qualcun altro Sì Ah 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 Vaffanciuppolo Dirty rugs Dirty rugs You Dirty Andiamo su Ah ecco Serve Accendere L'elettricità No Forse l'ho abbassato No Sbagliato Options Mi alzo un pochettino No Quella 33 Quella 53 Ah 53 C'è la pala Ah E' andata Al 37 La cosa Ok Allora Qui c'è Due Ciao Allora Ah Vediamo se Magari Stavolta Dirty rugs Anche qua Ok Ciao Ciao Scusi Il disturbo Ma Sono qui Per la scienza Qui Per fare le cose Ok E' a Zero Dium Ok Lui c'ha già L'extended Che gli serve Lui è già 10 10 su 10 Ah ok A zero Perché allora Ha salvato Ovviamente Come era Prima che L'avevo Già Messa Ora Essendo che Ero già Morto Ovviamente Le cose Poi sono Dispaunate Perché hanno Mi pare 30 minuti E poi Dispaunano Quindi Quindi Ripperoni Ripperoni Perché tanto Non credo Voto a caso Oh Dirti razza Anche qua Non le vuote Vabbè Signori Che vi devo dire Fate troppo casino Anche se siamo arrivati A 25 minuti Avrei voluto Mostrare un po' Di armi Cose Eccetera Però niente Se ne volete ancora Fatemelo sapere Perché almeno Vado un pochettino Avanti Vedo un po' Come funzionano Le cose Probabilmente Mi serve un martello Per poter Fare Le Le barricate Alle porte E tutta questa Robetta Del genere E quindi Se vi interessa Qualcosa Di un po' Più approfondito Fatemelo sapere Così magari Ne Ne faccio un altro Più Più avanti Io magari Adesso Orca merda Tomà Quella Branzalungola Hosti Dio Bonino 308 Eh Perché son pieno Ah no Tenuto premuto E perché sono Una Barbie E niente Cioè praticamente Ho fatto questo videozzo Per fare Una chiacchieratina Niente di che Perché Use the creative To sharpen Sharpen in stone Ok Ansi Ora aspetta Perché Non sono 45 9 mm Ciao È un piacere Vederti anche A te Nella mia Nel mio Bar Ok Quindi Quindi Ah ho da fare altre cose Ok Però va bene Dice Di Che posso Sharpenizzare le cose Ma Ma Non sembra proprio Ma va bene Forse non ho le cose Per Riaffilarlo Comunque niente Signori Dai Fatemi sapere Fatemi sapere Così Ne porto Qualcun altro Di video del genere Oppure Insomma Sti cazzi Lo porto comunque Almeno Faccio qualcosa Di un po' diverso Perché Ai tempi Mi interessava Veramente tanto E Secondo me Una volta Che fai tante cose Inizia a giocarlo Come si vede Può essere Molto carino Ah E fatemi sapere Anche se siete Alla fine Quindi sentite Questa cosa Che sto per dire Fatemi sapere Se Vi può interessare Un video Su Elite Dangerous Odyssey Ma comunque Probabilmente Uno lo porterò A prescindere Perché Lunedì Esce L'Alpha E Insomma Se non sapete Cos'è Elite Dangerous Andatevelo a vedere Soprattutto Che cos'è Odyssey Perché Sarsiszen Potrebbe Morire Grazie a questa cosa Comunque Dai Noi ci si vede Al prossimo video E Niente signori Dai Torniamo più carichi Che prima Dai Ci si vede Al prossimo video Ciao 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 ciao